Un saluto a tutti da Luca Mazzucchelli, oggi parliamo di disturbi dell'apprendimento e raccontando una risorsa pratica utile ai genitori e agli operatori che hanno a che fare in questi contesti, lo facciamo con un collega siciliano Gianluca Lopresti, ciao Gianluca! Ciao Luca! Gianluca è uno psicologo esperto in disturbi dell'apprendimento, sono contento di intervistarlo perché appartiene un po' alla nuova generazione di psicologi, non perché ci sia da rottamare nulla, però perché si è deciso di adottare una modalità comunicativa molto attuale, molto vicina anche a quelle più utilizzate tra i ragazzi e tra le nuove generazioni. Gianluca è sicuramente un collega, io lo stimo molto, l'ho conosciuto vedendo alcune sue video interviste su YouTube, ho letto le sue pagine Facebook e il suo blog, è un collega umile ma molto anche appassionato e competente, quindi direi se è d'accordo partiamo subito, Gianluca se ci puoi raccontare che cosa sono i disturbi specifici dell'apprendimento e quali possono essere i segnali che i genitori, operatori, educatori devono tenere a mente per poterli meglio riconoscere? Dunque i disturbi specifici dell'apprendimento sono la dislessia, disortografia, disdrafia e discalculia, con dislessia intendiamo un tipo di caratteristica neurobiologica, quindi un disturbo vero e proprio insomma, in cui il ragazzino ha delle fortissime difficoltà nel acquisire le abilità di lettura, quindi velocizzare le fasi di abilità di lettura, solitamente le difficoltà che abbiamo a questo livello sono caratterizzate da una lettura molto lenta, da una lettura sillabica in cui il ragazzino commette molti errori, poi dipende sempre dal tipo di livello a cui fa riferimenti il ragazzino, la disortografia invece concerne il fare tantissimi errori ortografici, molti di più anche dal punto di vista statistico di quelli che fa un cune ragazzino in terza, quarta, quinta elementare e così via. Ad esempio ci sono errori lessicali che riguardano le doppe, gli accenti, errori con l'H, parole che dovrebbero essere unite come allora che invece vengono scritte separate, parole invece separate che vengono scritte unite come il cane e così via. La disdrafia, ovvero problematiche legate all'espressione grafica della scrittura, non si capisce nulla di quello che il ragazzino scrive, discalculia invece problematiche nell'avere a che fare con la quantità numerica, con le procedure numeriche, quindi stiamo lì pomeriggi interi a spiegare come fare ad esempio una moltiplicazione o una divisione, sembra che la cosa si sia capita, l'indomani buio totale insomma, stessa cosa avviene nell'altura e così via, appunto si chiama un disturbo specifico dell'apprendimento, specifico perché solamente se sei intelligente puoi anche avere un DSA, ovvero è un'intelligenza dalla norma in su e non ci sono altre problematiche, quindi non di vista, non uditive, non psicologiche e così via. Ci sono però altri indici a cui possiamo fare riferimento, in quanto i ragazzini con il DSA molto spesso, non sempre, ma spesso hanno difficoltà emotive, ad esempio mal di pancia, mal di testa prima di andare a scuola, oppure quando tornano da scuola, sempre in riferimento al contesto scolastico e anche comportamentali, ovvero che vedi Luca, il genitore inizia a fare i compiti il pomeriggio insieme al ragazzino, quello che accade a un certo punto è che arrivano tutte le scuse di questo mondo, ovvero ho fame, ho sede, devo andare in bagno, il genitore rincorre il bambino sopra il letto, dietro il divano e così via insomma e tutte le scuse sono buone per non studiare. Ovviamente serve un approfondimento specialistico perché sono solamente gli specialisti che fanno una diagnosi di DSA, la scuola li segnala, ci sono delle ottimi insegnanti a scuola che segnalano i ragazzini, però poi sono gli specialisti che fanno questo tipo di diagnosi. Senti, seguiamo quest'iter ipotetico, dopo avvenuta la diagnosi, come si può fare per aiutare un bambino con disturbi specifici dell'apprendimento? Il primo aiuto ovviamente è la diagnosi, su questo mi focalizzo un attimino, in modo che è molto semplice perché come vedremo è tutto quanto un percorso chiaro, ovvero diagnosi di DSA fatta a norma, il PDP che adesso vedremo che cos'è e le attività poi dispensative, compensative e potenziamento. Diagnosi chiare cosa intendiamo? Che effettivamente per i DSA abbiamo un documento, la conferenza Stato-Regioni del 24 luglio 2012, la quale indica che all'articolo 3,1 che la diagnosi deve essere fatta secondo la Consensus Conference, cosa vuol dire questo? Che non c'è un protocollo per i DSA, non c'è un protocollo uguale per tutti, ma più che altro c'è un percorso diagnostico per ogni ragazzino e questa è la cosa importante, ovvero che noi di fronte abbiamo un ragazzino con nome, cognome, tipo di abilità e su quello bisogna andare a lavorare di volta in volta per capire bene il profilo di funzionamento, sempre la normativa dice che bisogna inserire il codice CD10, quindi ogni F81 intendiamo quel DSA che viene messo nella relazione, la scuola sa che quello è il riferimento per la legge 170, ovvero per i DSA e indicare anche il tipo di DSA, perché oltre a DSA bisogna mettere se dislessia, se dislessia di che tipo? Lessicale, fonologica e così via. Poi la normativa ci dice anche che la categoria diagnostica non è per niente sufficiente a indicare quelli che sono gli aiuti, bisogna andare oltre, ovvero bisogna andare a indicare quali sono le modalità per proprio didattiche, operative didattiche per poter aiutare il ragazzino, quando abbiamo una diagnosi che mi va a dire anche come aiutare il ragazzino, quindi non un fotocopia incollato per intenderci, ma qualcosa di personalizzato al ragazzino, è un documento essenziale sia per la famiglia, per come seguire il ragazzino il pomeriggio, ma anche per la scuola affinché non venga abbandonata. Gli insegnanti oggi hanno un forte senso di smarrimento di fronte a delle documentazioni di due pagine in cui c'è messo e DSA ve la dovete vedere voi, non funziona in questa maniera insomma, mettiamo la scuola nelle condizioni di poter lavorare veramente bene, se poi vi è qualche mancanza allora interveniamo di conseguenza. Quindi per concludere abbiamo questa diagnosi di DSA che non si va a concludere con un paio di domande o una batteria di test, ma che faccia riferimento al ragazzino nel dettaglio. Questo tipo di aiuto il genitore lo porta a scuola, ufficialmente lo protocolla in segreteria, si segna data e il numero di protocollo cosicché può sempre averlo dietro e fa una richiesta di PDP, sempre in riferimento alla normativa di cui prima il genitore di Il PDP è il piano didattico personalizzato, ovvero è una documentazione in cui ci si accorda tra scuola, famiglia e operatori che tipo di modalità didattica utilizzare con il ragazzino, in tal senso cito il testo, un libro di un collega insomma, posso farlo vedere qui? Certo. E di Fogarolo come costruire il piano didattico personalizzato, l'ho trovato molto utile, infatti ci sono gli appunti che fate a vedere ad ogni incontro a scuola. È importante seguire delle indicazioni operative abbastanza chiare, evitare come anche dice se non sbaglio il decreto ministeriale BEST del 22 novembre 2013, il quale indica che il PDP non è un elenco di rocette da spuntare, non è una checklist, il PDP è una cosa di personalizzata sul ragazzino insomma. Quindi questo possiamo dire che è un quadro non complesso, ma completo, nel senso che tutto si unisce. Da quando diagnostichiamo in ambito sanitario, andiamo a collegare con le indicazioni specifiche per quel bambino, chiamiamolo Andrea, e come aiutarlo nel contesto scolastico. Chiarissimo, chiarissimo. Senti, di che età stiamo parlando Gianluca? Dunque, dal punto di vista diagnostico, dislessia, disortografia e disografia si possono diagnosticare solamente dalla fine della seconda classe primaria, la discalculia dalla fine della terza classe primaria. Questo però non significa che prima non si possono dare degli aiuti, ovvero che prima magari si fa un tipo di diagnosi di difficoltà negli apprendimenti e quindi si dà un tipo di potenziamento e di aiuto. In teoria la legge 170, l'articolo 3 indica che nei commi 2 e 3, va a indicare che quando la scuola si accorge, gli insegnanti, che vi sono delle difficoltà, subito partono un tipo di supporto. Se queste difficoltà permangono, allora va segnalato alla famiglia. Chiaro, va bene. Senti, famiglia, d'accordo, allora entriamo un po' più sulla famiglia, cioè se c'è un qualche suggerimento che possiamo dare ai genitori che hanno figli con disturbi specifici dell'apprendimento e che vogliono aiutare i ragazzi nello studio. Sì, allora, chiariamo cosa intendiamo con DSA nella lettura. Do una risorsa più che altro per i genitori che hanno bambini con dislessia e quindi a fargli studiare i testi che molto spesso risulta molto problematico. Quindi il disturbo della lettura non permette l'acquisizione del meccanismo delle fasi di lettura. Cosa vuol dire? Che spesso abbiamo una lettura sillabato scorretta, come dicevamo prima. Questo chiaramente, un tipo di lettura così, non permette di poter memorizzare termini chiave all'interno del testo. Tecnicamente chiamiamo difficoltà nel buffer fonologico o nella memoria lessicale. Quindi il bambino con dislessia, quando va a leggere o ascolta un testo a causa del DSA, ha difficoltà a tenere a mente determinati le semi o parole chiave, che sono quelle parole chiave che servono a me per agganciarmi al testo e poi poterlo ripetere. Quindi quando poi va a ripetere, fa giri pindarici, non arriva al punto oppure si blocca completamente, insomma. Cosa possiamo fare? Fase 1, che l'adulto legge al posto del ragazzino. Ora, qui c'è un mito da sfatare. La lettura è solamente uno dei tanti strumenti per acquisire dei contenuti, nel senso che noi andiamo a scuola, non per leggere velocemente, ma per acquisire dei contenuti, ovvero garantire l'accesso scolastico. Il successo scolastico vuol dire questo, vuol dire andare a far acquisire dei contenuti. Io posso utilizzare uno strumento che è la lettura, ma non c'è solamente quello. Posso ascoltare la storia di Mosè o leggendola io, o me la legge un'altra persona, o con un video, o con dell'immagine, o con una rappresentazione, quindi con i vari canali che posso avere. Quindi è l'adulto che legge al ragazzino utilizzando il canale uditivo. Insieme a ragazzino andiamo a individuare le parole chiavi, quindi seconda fase. Queste parole chiavi le mettiamo su un foglio o su un software, ad esempio esiste Cmaps, per fare un esempio, magari lo metteremo nella distrazione del video, con cui fare le mappe concettuali. Queste mappe concettuali attraverso le immagini fatte insieme al ragazzino. Dopodiché il ragazzino va a seguire di nuovo la lettura dell'adulto guardando la mappa concettuale e si ritrova di fronte a quello che lui ha fatto con i suoi termini. Dato che abbiamo una diagnosi che mi dice che ad esempio ho una dislessia a carattere lessicale e quindi il ragazzino ha delle difficoltà nella memorizzazione delle parole chiave. Questa diagnosi viene portata a scuola, facciamo il PDP, nel PDP c'è Meso che a causa di questo tipo di difficoltà, come da consiglio, utilizziamo la mappa concettuale. Il ragazzino ha la mappa concettuale che abbiamo appena fatto, la stampa o la porta tranquillamente a scuola, fa la ripetizione, il ragazzino va bene e può avere la soddisfazione di prendere un buon voto, che per noi sembra una cosa banale, ma per lui quel numeretto o quella stellino, quel bravo bravissimo fa la differenza quando torna a casa. Insomma è un po' di rinforzo, diciamo che è necessario. È necessario, è necessario, indubbiamente. Senti, come mai hai deciso di occuparti di questo argomento nella tua carriera? Perché sai, la psicologia è una scienza di confine, per certi versi si può lavorare in molti contesti, come mai tu hai scelto proprio questo Gianluca? Beh, a livello universitario mi è sempre piaciuta la neuropsicologia, che si divide fra l'adulto e il ragazzino. Studiando quella dei ragazzini è quella che mi ha appassionato chiaramente molto, molto di più. Poi ho iniziato a vedere i casi e quello che mi ha appassionato in maniera preponderante è stato andare a sentire e ad ascoltare le storie dei genitori e vedere questi ragazzini che è vero facciamo tanti test, batterie, punteggi, deviazioni standard che conosciamo alla perfezione, ma che ogni ragazzino non è quel punteggio. Questo è un rischio grosso, purtroppo i manuali diagnostici hanno questo grande rischio, i test, i questionari, sì. Tu sei lì per difendere un po' quel ragazzino da tutti questi numeri, da queste crocette, da… Più che altro far risaltare le tante cose in cui lui è bravo, perché sono bravi tantissime qualità e tantissime attivazioni, insomma, e te lo dice una persona che magari due pagine le ha scritte su come andare a diagnosticare con certi percorsi diagnostici chiare e così via ragazzini, che sono importanti, anzi è giusto che vengano diagnosticati con l'elite che noi possiamo avere, ma è anche corretto andare al di là e che quei numeri possano servire solamente come contorno a quello che è il ragazzino, il suo nome, cognome, la storia, l'età, cosa gli piace fare il pomeriggio, ad esempio le attività di potenziamento. Quando consiglio a tutti quanti i genitori delle attività per migliorare le abilità di veloce di lettura, abilità ortografiche e così via. La prima domanda che faccio è il ragazzino cosa fa il pomeriggio durante la settimana? Beh, il lunedì va a calcio, ok, le attività che farà il pomeriggio il lunedì non gli deve essere toccato. Prima cosa, fine, siamo noi che ci adeguiamo a lui, nello studio, anche per i compiti per casa, nel segnare di attività quando viene seguito dall'operatore, che prima lui metta in campo e faccia quello che gli interessa di più il pomeriggio, dopo ci andiamo ad adeguare noi. È una cosa molto brutta metterlo lì a fare attività di potenziamento o attività di studio e andandogli a togliere ciò che fondamentalmente è la vita. A scuola molti insegnanti che concordano con questa definizione, inserirei davvero delle lezioni di imparare ad apprendere le emozioni, ad esempio. O imparare a vivere le relazioni. Dovremmo inserirle proprio come curriculum scolastico, insomma. È ragione, sono molto d'accordo. Senti, allora Gianluca, per chi avesse voglia approfondire un po' l'argomento, io so che tu hai scritto tre libri… Sì, non da solo, ovviamente. Sì, esatto, insieme ad alcuni colleghi, tutti e tre editi per Ericsson, uno diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento scolastico, l'altro dislessia e altri disturbi specifici dell'apprendimento a scuola e diagnosi dei disturbi evolutivi. Prima hai mostrato anche un altro libro, quindi mi sembra come bibliografia abbiamo dato sicuramente dei buoni punti di partenza. Ti vieni in mente dell'altro materiale, magari più sul discorso che accennavi prima sul potenziare l'apprendimento? Guarda, ce ne sono tantissimi e dipende sempre dal tipo di valutazione che noi andiamo a fare. Ora ne vuole citare uno che non ha nulla di particolare in confronto agli altri, solamente che si parla sempre della dislessia, dell'uscita di lettura e così via, si parla magari un po' meno degli errori ortografici. Ce n'è uno che fra i tanti, lo utilizzo davvero molto, ho letto le sperimentazioni e va una meraviglia, si chiama Divertirsi con l'ortografia, lo utilizzo con i ragazzini che hanno un tipo di disortografia con carenze a livello soprattutto lessicale, quindi errori di doppie, accenti, fusioni fonemiche e così via. Ci sono messe all'interno delle schede in cui il ragazzino deve andarle ad eseguire, ad esempio delle parole in cui mi va a cambiare il significato cambiandomi la singola letterina all'interno della parola. Solitamente per gli operatori consiglio le schede, così che possono mettere in campo tutte le loro competenze, per i genitori consiglio il CD che è anche molto più accattivante. Come modalità di utilizzo solitamente si consigliano ad esempio 15-20 minuti per due o tre volte a settimana, un po' come fare un allenamento fisico, anziché sia allenamento fisico e allenamento mentale, insomma. E i miglioramenti lavorando in maniera costante ed essendo seguiti e monitorati almeno 4-5 mesi chiaramente ce li abbiamo. Perfetto, allora Gianluca grazie mille per la tua chiarezza, vediamo quali commenti questo video susciterà e ci vediamo poi alla prossima. Perfetto, grazie a tutti e arrivederci. Ciao. Ciao.